2.050, contrario. Grazie. Il Governo? Conforme alla relazione di maggioranza. Grazie. Bene, allora 2.02, 40 ed altri 40. Prego. Grazie, Presidente. Noi avevamo preso questa discussione sul serio. Pensavamo che quando il Partito Democratico ha proposto una legge che doveva normare o attuare l'articolo 49 si volesse davvero affrontare il problema. E qual è il problema? Che oggi, a differenza del 1948, non ci sono più gli stessi partiti ed è mutato profondamente il contesto in cui si muove la politica nel nostro Paese. Qual è l'esigenza che ha spinto e ci spinge a ragionare del tema dell'autoriforma della politica e dei partiti? Il fatto che sempre meno persone partecipano attivamente alla vita democratica attraverso lo strumento partito e la grande ormai disillusione che porta a un'astensione fortissima nella partecipazione alle elezioni da parte di molti cittadini italiani. Ora, naturalmente, la crisi della politica non è una crisi solo legata alla regolamentazione delle forze politiche. È una crisi di contesto, è mutato il mondo intorno a noi. I livelli di sovranità non sono più quelli che erano un tempo quando è stata concepita la Carta Costituzionale. Pensiamo solo al ruolo dell'Europa, ai poteri che sono stati ceduti a quel livello istituzionale e che non sono democraticamente controllati dai cittadini. O pensiamo anche al contesto sociale ed economico che è mutato e quei partiti concepiti nel 1948 erano legati a quel contesto. Oggi tutto è molto più frammentato ed è molto più difficile dare una rappresentanza ai cittadini italiani così come lo stesso tipo di crisi lo riscontriamo nel contesto europeo. E tuttavia, detto tutto questo, cioè ci sono anche ragioni storiche che andrebbero analizzate, ma un primo passo fondamentale era dare un segnale non solo di trasparenza, perché, badate bene, i nostri cittadini sanno già come sono i partiti italiani. Non abbiamo bisogno di dimostrare ulteriormente quanto sono inadeguati al ruolo che dovrebbero svolgere. Qui si trattava di mettere alcune regole minime che consentissero la partecipazione e l'attuazione dei diritti politici dei cittadini italiani, anche perché la nostra Carta Costituzionale non è che prevede la partecipazione dei cittadini intesa come voto una volta ogni cinque anni e finisce lì. La nostra Carta Costituzionale prevede la partecipazione attiva e quotidiana dei cittadini per applicare fino in fondo quelli che sono i principi della prima parte della Carta Costituzionale. Allora, noi abbiamo provato molto semplicemente su tre questioni. Democrazia interna, che vuol dire diritti minimi degli iscritti e selezione delle candidature. Qui, diciamo, le forze politiche sono libere di scegliere le loro modalità, ma queste devono essere chiare, esplicite e controllabili. Secondo tema, il tema delle incompatibilità. Ricordavo stamattina come un tale Enrico Berlinguer, fin dal 1981, in intervista a Repubblica, disse che i partiti stanno occupando le istituzioni. Noi crediamo che chi ha cariche di partito non possa avere anche cariche di governo, perché altrimenti questa occupazione è esplicita, neanche più celata. Terzo, infine, c'è il tema del finanziamento della politica. Ora, abbiamo fatto delle leggi, dal mio punto di vista, sbagliate in questi ultimi mesi e anni, contro il finanziamento pubblico della politica. Ora, io ero contro a quel tipo di finanziamento pubblico, non a un finanziamento che in maniera virtuosa avesse dato servizi uguali per tutti, anziché elargizioni, i cui controlli poi erano assolutamente farraginosi. E tuttavia, anche in questo, il limite al finanziamento privato forse andrebbe, diciamo, circoscritto meglio. Perché, ad esempio, uno stesso finanziatore può finanziare anche tre, quattro, cinque partiti diversi? Cos'è una manifestazione di, diciamo, di idealità, il fatto di finanziare destra, sinistra e centro? Perché le persone giuridiche devono poter finanziare, anziché le persone fisiche, i partiti politici? E ancora, non potremo mettere dei limiti come quelli europei rispetto al finanziamento privato? Ecco, su tutte queste questioni noi avevamo preso questa discussione sul serio e con questo emendamento abbiamo provato a riassumere i punti fondamentali. Vedo che, diciamo, in questa discussione non vi è nulla di tutto ciò. Vedo che questa discussione avviene nella sostanziale solidarietà tra le principali forze politiche che non si disturbano. Vorrei che gli amici e compagni del Partito Democratico notassero come su un tema che dovrebbe essere la riforma dei partiti non c'è un intervento del Movimento 5 Stelle. Questo vi fa sospettare qualcosa oppure no? Visto che un giorno sì e un giorno no criticate l'organizzazione interna del Movimento 5 Stelle. Quindi mi pare che sia un'occasione persa, si faceva più bella figura a non affrontare questo tema e a non far credere ai cittadini italiani che la politica si sta autoriformando. Grazie, collega Quaranta. Adesso il collega Sanna. Deve essere chiaro a tutti, colleghi, che questa legge non sostituisce la politica e non possiamo chiedere, anche se magari crediamo, e sono sempre in meno a crederci, in una funzione, per così dire, promozionale del diritto, che quello che scriviamo qui ci salvi dal fare nella democrazia che sta fuori dalle aule parlamentari per intero il nostro dovere. Un dovere fatto di esempi, fatto di prassi, fatto di correttezza, di onestà, di trasparenza, di iniziativa politica, di spiegare le cose che facciamo i cittadini. Non si risolve la crisi dei partiti con questa legge.